Poi cercavo il 110 per i ragazzi Poi si chiama Irene, Irene mi mando, non so chi è Mirene, 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 quella là Sono tre amiche, non puoi essere bene Poi si chiama Irene No, no, il 50 Io buono ma Cercavo la numero 3 E poi cercavo il 112 per le ragazze Non li trovo, non li trovo Io guardate tutti Vecca il 116 per i ragazzi No, no, il 50 Vecca il 30 Vecca il 30 Vecca il 30 Sui Vecca il 30 Uccolo il 40 Poi c'è Ho Vecca il 50 Vecca il 30 La Italia Penso Vecca il 31 Vecca il 30 Uc En Nonno Sì Vecca il 30 Grazie a tutti